Buonasera, ti ringrazio di essere venuto, voglio ringraziare tutti gli artisti che ci hanno durato il loro tempo e che sono stato il professor. Zara, sei il fantasma! Grazie. E' un'opera d'arte creata dall'amore di Dio. Ringrazio Padre Ludovico, tutta questa comunità che ci offre sempre questo locale, sicuramente tutti i membri dell'associazione Ness Innes Italia, le uni per gli altri, il coro che è diventato un partner, gli amici che sono venuti anche un po' da lontano, dall'altro lato di Roma. E anche ringraziamo sempre Dio che ci apre queste possibilità, rinnoviamo sempre la nostra fede, crediamo in quel poco che facciamo, quel poco che arde, quello anche salverà il mondo. E grazie a tutti. Grazie a tutti. E perché no Stefania, tu parli da lontano e vieni a parlare un po' di qua che ti vediamo. La lontano e vieni a parlare un po' di qua. Egli un po' di qua che ti vediamoci.